Andiamo a preparare un vodka sour. Invece di preparare un vodka sour normale andiamo a fare un twist del vodka sour, ovvero andremo a mettere il nostro distillato di base, la nostra vodka, 45 ml. In seguito, invece di parte dolcificante, lo zucchero, andiamo a fare un twist con dell'orzata. La parte citrica, andiamo a spremerlo all'interno del jiggle per essere un attimo più precisi, perché la precisione è fondamentale nel nostro lavoro. Infine aggiungiamo un vasco di peixe de vin e andiamo a shakerare il tutto. Una volta che ci pianiamo, però, se no, a 12 secondi, una volta ottenuto l'effetto frosting, l'effetto ghiacciato esternamente, sempre col sorriso, mi raccomando, smagliate, andiamo a versare il tutto nella nostra coppetta che abbiamo raffreddato in precedenza. Con l'ausilio di uno strainer, visto che abbiamo utilizzato della grume, utilizziamo una double strainer. Andiamo a mettergli anche una semplice scorza di limone con degli oli essenziali. Enjoy! Enjoy! Grazie a tutti